Il ministro Gaetano Manfredi conferma che si batterà perché le basiliche di Cimitile diventino patrimonio dell'UNESCO. Lo conferma a margine della consegna dei campanili d'argento, 25esima edizione del premio. Serata condotta da Monica Leofreddi, brava a armonizzare la consegna dei riconoscimenti dagli altri al magistrato Nicola Gratteri. Questo è un posto solenne, un posto solenne, sacro, che ispira la riflessione, la meditazione. E noi abbiamo bisogno sempre, quando ad esempio col professore di casa scriviamo i libri, a pensare, a riflettere, a ragionare, ma molte volte anche a stare in silenzio. A Walter Beltroni ci si è abituati a parlare il linguaggio dell'odio. Il linguaggio dell'odio è in sostanza la manifestazione di una grande presunzione, l'idea di essere i portatori di verità esclusive e integrale. Per cui, appunto, se qualcuno ha una religione diversa dalla tua, se qualcuno ha un'opinione politica, sportiva, culturale diversa dalla tua, è un fastidio invece di essere come la principale, la più bella ricchezza della vita degli esseri umani. Al capo redattore della Rai di Napoli, Antonello Perillo. Antonio Ravel è stato un pioniere dell'informazione regionale del servizio pubblico radio televisivo. Nel primo Tg della Campania c'era lui. Io poi ho avuto la fortuna non solo di godere del suo affetto, ma poi di entrare nella redazione dove ho trovato il figlio, Massimo, uno dei più bravi cronisti, un inviato straordinario della Rai, che ha realizzato centinaia e centinaia di servizi importantissimi, come ha raccontato la Camorra, negli anni della guerra tra Cutolo e le altre organizzazioni. E vi devo dire che per me è davvero un doppio privilegio ricevere appunto questo riconoscimento qui. E all'attore è il regista Alessandro Siani. Il premio per me è importantissimo, è un'eccellenza questo premio della nostra regione, che a livello nazionale, devo dirti, ha sempre dato grandissime soddisfazioni. Quindi ero contentissimo di essere qui e finalmente sto qua e forse non me ne vado, resto qua. Serata conclusa con successo e l'esibizione anche di Michele Zarrillo e Tonio Esposito, come sottolinea il presidente della fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano. 2020 rappresenta l'obiettivo importante di un ormai lunga e prestigiosa storia del premio. Oggi più che mai possiamo guardare a ciò che il premio ha lasciato sul territorio, a quello che ha fatto per Cimitile, per il complesso basilicale e per la crescita culturale della comunità e della regione campagna.